Analizzare il segno dello scorpione, per voi amici dello scorpione, luna bellissima, luna che parla di notizie che possono arrivare, notizie che stavate aspettando chissà da quanto tempo, proposte, nuove opportunità di lavoro, questo è un periodo estremamente fortunato che voi dovete sfruttare al massimo, avete anche la forza di cambiare delle abitudini che ormai erano ben radicate nella vostra vita, quindi non avete paura di un cambiamento che può essere anche clamoroso, che riguarda il lavoro, che riguarda la vita personale, sentimentale, le amicizie, il partner, insomma questo è un momento rivoluzionario della vostra vita, devo dire amici dello scorpione, voi dovete solamente gestirlo nella maniera migliore e c'è comunque questo Saturno che riesce a darvi la solidità anche per affrontare qualsiasi tipo di cambiamento senza fare un salto nel vuoto, che cosa significa? Che voi siete consapevoli di quello che state facendo e soprattutto di come farlo, anche quando c'è da investire una somma di denaro, insomma la fortuna è tutta dalla vostra parte, soprattutto in questa giornata. Bene, allora vi...